ciao a tutti amici amanti dei bei libri e delle letture ad alta voce ben ritrovati in questo nuovo episodio speciale della narratrice di sogni oggi mi piacerebbe proporvi la lettura di un romanzo scritto da maria fazio si intitola pronto risponde l'assassino vi leggo la trama erika una trentenne laureata in sociologia svolge un lavoro che non la soddisfa in un call center siciliano in cui sono impiegati circa 700 operatori un giorno uno dei dirigenti viene trovato brutalmente assassinato e l'indagine è affidata al commissario farina da poco trasferito in sicilia e alla sua prima esperienza con un omicidio il call center è un microcosmo complesso il poliziotto si rende ben presto conto di non avere in mano elementi utili alla soluzione del caso e chiede aiuto a erika dato che la ragazza gli pare sveglia e conosce bene il contesto ma gli rimane il dubbio che la colpevole possa essere proprio lei durante le indagini l'assassino o l'assassina tra paure debolezze e sensi di colpa rivela il suo delitto a una cliente che ha chiamato il call center per ricevere assistenza ma che si mostra piuttosto arrogante e la minaccia di morte destabilizzando il suo fragile equilibrio emotivo zero io ho ucciso la voce all'altro capo del telefono improvvisamente si zitti ho ucciso un uomo potrei uccidere anche te ho il tuo nome ho il tuo indirizzo il tuo numero di telefono posso trovarti ovunque seguire i tuoi movimenti aspettare di trovarti da sola quando non te lo aspetti e ucciderti la donna balbettò sta sta scherzando no essere in ritardo non è un caso né una conseguenza è una scelta talvolta consapevole per allontanare il più possibile un evento o un incontro sgradevole il ritardo sistematico è una fuga da se stessi la giovane donna fissò per l'ennesima volta l'orologio posto sul cruscotto poi il suo sguardo nocciola si sollevò di nuovo sulla strada asfaltata che correva sotto gli pneumatici detestava quel suo essere in costante ritardo ma non riusciva a farci nulla ogni volta si riprometteva di partire con il giusto anticipo ma i buoni propositi facevano appugni con la sua insofferenza nei confronti di un lavoro in cui si era ritrovata per caso e di cui non riusciva più a liberarsi scosto con una mano ai capelli castani un po' mossi che le ricadevano sulle spalle poi rimise la mano sul volante e accelerò guidare avrebbe dovuto rilassarla di solito era così l'abitacolo si trasformava in una bolla attraverso la quale poteva osservare il mondo senza farne parte ricordò che quando a 18 anni aveva preso la patente l'auto era stata per lei una sorta di luogo sicuro in cui rifugiarsi ogni volta che aveva bisogno di silenzio adesso non sentiva più il bisogno di silenzio ma si sentiva ancora confortata dalla solitudine del posto di guida e dalla possibilità di tenere il volante tra le mani come se fosse padrona di scegliere dove andare sul sedile vuoto del passeggero qualcosa cinguettò non era proprio un cinguettio anzi forse era una sorta di monotono gracchiare il suo smartphone lei riconobbe la persona che la stava richiamando dalla suoneria personalizzata raccolse l'apparecchio dal sedile e rispose senza distogliere l'attenzione dalla guida ciao paola sono in macchina sto andando al lavoro ci sentiamo dopo la voce squillante all'altro capo era un tantino ansiosa e materna erica sei di nuovo in ritardo l'affermazione non aveva dubbi è tutta colpa di questi turni sballati tesoro devi trovare il modo per mettere un po d'ordine nei tuoi ritmi altrimenti ti ammalerai come se fosse facile i pensieri di erica non si tramutarono in parole lei e la sua migliore amica avevano affrontato troppe volte l'argomento ma paola non era in grado di comprendere le difficoltà di un lavoro che si svolgesse su tornazioni miste paola era una di quelle poche persone fortunate che avevano alle spalle un genitore con un'attività professionale avviata subito dopo la laurea aveva cominciato a praticare nello studio privato di suo padre oculista nessun curriculum da inviare nessun sito di agenzie interinali su cui iscriversi nessuna ricerca spulciando la gazzetta ufficiale erica provò a ricordare l'ultima volta che aveva inviato un curriculum ma lo aveva dimenticato a un certo punto aveva finito per arrendersi come tutti no viveva in sicilia una regione in cui il lavoro sembrava un miraggio raggiungibile solo grazie alle giuste conoscenze aveva cominciato a lavorare al call center in attesa di trovare qualcosa di meglio ma poco alla volta aveva smesso di aspettare il traffico era intenso e le automobili avanzavano con lentezza forzata alcune scattando in avanti in un singhiozzo nervoso sulla 500 beige la giovane donna tamburellava con le dita sul volante si aggiustò lo smartphone che stava scivolando e disse attraverso il microfono detesto questo turno becco sempre un traffico micidiale la voce all'altro capo rispose con prontezza la settimana scorsa ti lamentavi del turno serale perché rincasavi tardi e dormivi male non ti va bene nulla erica si sentì abbattuta non mi va bene cambiare ogni tre giorni perché così lascia stare comunque sono quasi arrivata ci sentiamo dopo spero di essere riuscita a incuriosirvi se deciderete di tuffarvi fra le pagine di maria fazio buona lettura ci vediamo presto ciao